Io parlavo tempi fa, ma la gente non crede. Io parlavo di questa situazione di cambiamento di componenti dei droni da alcuni venditori. Io parlavo, la gente aveva parlato molte cose che non erano buone, ma io stavo certo. Una volta fa, una volta ma, una volta più. Solo una volta, io stavo certo. E qui sono due droni. Io ho bisogno di fare un droni con tutte queste cose. Il proprietario bisogna di alcuni droni. E io, io, questo. Questo bisognerà fare funzionare alcune cose qui, con tutto questo scarico. Bene, se sono qui, se non c'è un'altra persona, facciamo. Facciamo insieme. Perché non sarò qui, da solo. E tutti voi saranno insieme. Una esquerda madre. due schede madre. Una VPU. Due VPU. Un cavo flessibile. Oh, questo è buono. Una cosa buona in questa corsa, questo cavo flessibile. E questo cavo flessibile sembra essere molto buono. Vediamo, vediamo, non lo so. Oh, c'è un secondo! Vedi? Non sono tutte le cose che sono malati qui. Alcune cose non sono. Sono due. Credere che alcune di loro è buono. Perché il terzo non è. Non è buono! Una scheda di potenza. Un barometro. Un IMU. Bene! Una scheda di GPS. È molto sporco questo droni. Molta cosa qui non è buono. Bene. Il proprietario bisogna di alcun milagro. Alcuna nuova cosa qui. È io. È io. Sono la persona che è responsabile da questo milagro. perché io avevo in questa mattina lasciato il letto. Bene, Vitor, per lavorare. Ma non mi fa bene, Vitor, questa situazione attuale. Marito, se non è tuo, che altra persona sarà disponibile per far questo milagro. Non lo so, ma bisogna dal mio letto, una buona birra, mangiare qualcuna cosa, riposare un po'. No, Vitor, no, no. Faccio funzionare prima di tutto questo droni e dopo puoi riposare. Ma non credo che sarà possibile riposare, perché tutte volte alcune persone chiamano il mio, nella porta della casa. Che faccio io? Ma bene, una vacanza? Bene, una buona idea, meravigliosa. Perché non faccio amore? Perché sono qui nel lavoro, Vitor. Ma, Vitor, sono la stessa persona. Bene, facciamo funzionare questa cosa. Scarico. Già ho vissuto. Già ho vissuto tutto qui. Bene. Se fosse solo questo. Ma... Non lo so. Qual è il fio sporco qui? Non lo so, davvero. Dov'è? Ah, è qui, è qui disponibile. Io, il mio grandi occhiale. Vedi? Con me è il sport. Meraviglia, meraviglia. Non ha buone cose qui, certo. Sulle braccia, vediamo. Uno di loro, danneggiato. Due, anche danneggiato. Danneggiato. Non c'è niente buono qui. Che difficile. Bene, bisogno di due. Vediamo cosa sarà disponibile qui per lavorare. E' questo. Non ricordo più. No, no. Bisogna da uno. Solo uno. Bene, se non c'è un altro, sarà questo. C'è una cosa qui... Non è molto buona che... Lasciami vedere qui. Sì, è questo. Sì, sì, è questo, è questo. No. Non è. Perfetto. Uno dei bracci non è quello che ho bisogno. Non era vero. Ma non c'è un altro. Sarà questo. Non c'è un altro qui. Disponibile. Perchè queste cose sono cadute solo da me? Perchè? Non lo so. Perchè tutte queste cose sono con me. Bene. Se non c'è un'altra cosa da fare... Non c'è. Non c'è davvero un'altra cosa da fare. Sarà questo. Cominciamo. Cominciamo. Cominciamo perchè qui... Non c'è nada buono. Nada... Nada qui è buono. E questi bracci... Sono perchè... Non importa, sono anche danneggiati. Non fa differenza. Sono tutti danneggiati qui. Bene, cominciamo. Cominciamo da far funzionare questo drone. Non c'è un drone. Non c'è un drone. Non c'è un drone. Bene, amici. Io arrivo ora nella parte finale di questa riparazione. Questo drone non sarà disponibile per volare, non ho incontrato un compass nuovo da questo drone e senza un nuovo compass non sarà possibile volare. Il drone è ristaurato, è riparato ora, ma alcuni venditori di droni non lasciano nel mercato pezzi di riposizioni. È difficile, ma tutta la gente che ora sta acquistando un drone, se il drone cadere non sarà disponibile in nessuna parte, nessun posto, solo internet, niente, nessuna pezza di riposizione per far funzionare il drone. E senza questo drone non può volare, porta tutte le condizioni, ma non sarà disponibile per volare perché non ho qui un compass nuovo per fare il cambiamento. Non sarà disponibile. Bisogna dare un nuovo compass e dopo il cambiamento far funzionare di nuovo questa connexione fra il controllo e i droni. Il mondo bisogna fare una pressione di mercato sulla Xiaomi per poter lasciare pezzi di riposizione per cambiare tutte le cose che sono danneggiate nei droni dalla gente. Perché se no, se no, si tu ha sogni come questo, saranno tutti i giorni. Questo drone non può da fare il binding senza questa piccola pezza. Bene? E' questo. Il drone è riparato. Ora può volare. No, non può. Bisogna da una nuova pezza di riposizione per far funzionare. Sì, è questo. Oh, è buono, eh? Mi è fermato qui il lavoro. Questo drone ritorna al tuo proprietario perché io non sono più qui nel Brasile nei prossimi giorni o settimane. Sarò in un altro paese e dopo ritornare un po' per riposare io sarò sull'Europa. Non so se nel Italia o Francia, Spagna o Portogallo. Io cerco una stanza, una camera singola per poter vivere. Sono singola. E non cerco alcuna cosa molto bella, molto buona, con molto spazio. Cerco alcuna cosa semplice, solo semplice per me. E' questo. Bene amici, questo è il finale della riparazione da un film ex 8 e 7. Un abbraccio a tutti voi. Se qualcuno di voi ha bisogno di alcuna aiuta può chiamare nel mio telefono, nel Whatsapp. O faccia la domanda qui, in questo YouTube. Io sarò disponibile quando possibile. Una buona notte a tutti voi.